AAAAAH! MA NOO! Ma devi piegare, piegare! Ma che vuol dire la doveva? Devi piegare, lo dì! MA CHE COSA? NO, NO, NO! CHE STAY FACENDO? COS'È? CONO SPAGHETTI! PERCHÈ? CHE 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 ESTA? CHE COSÈ? CHE STAY FACENDO? COSÈ? CONO SPAGHETTI! PERCHÈ? UN POWERFUL, UN TOUP- P- Ma stanno mancato a capire? Sì, non c'è... Sì, non c'è... Sì, non c'è... Non c'è... AAAAAH! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! No, 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 no! My friend, at this point, you are just... WASTING FOOD FOR CONTENT! Take a mozzarella and pour it inside an avocado! Now take this green mustard and throw it in the flour! MA DA ME ROME! MA DA CHE SCARATO! MA DA CHE SCARATO! MCCOMMENT! What's going on with this pizza? Take the pasta and pour it inside the water! Then slice the chicken! You're not gonna pour it on pasta, right? Unleash the McTyson in you on a bag of chips! Oh, no! Cover the chicken in this very natural and organic red powder! Throw the pasta in the plastic cheese! Oh, madonna mia, that's a ma pazz... NOT APPROVED! STOOOOOOO! I am bigger pot! What are you making? Approved of what? One! You did it again! One hundred heart attacks! This is so... Wiggle the carapiniere! This is not funny anymore! Not approved! Pineapple! No! Pineapple! 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 Pineapple!